Buon pomeriggio a tutti, sono Claudio Forziati, sono un bibliotecario all'Università degli Studi di Napoli Federico II e come diceva Alessandra sono membro del gruppo di studio che ha organizzato questo webinar. Mi accodo, mi associo per ringraziare i nostri relatori e il nostro moderatore per aver accettato l'invito e ve li presento velocemente. Giuseppe Aceto è professore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Napoli Federico II ed è cofondatore e presidente del NALUG, il Napoli Linux User Group. Matteo Ruffoni è insegnante di matematica, scienze, coding e robotica presso l'Istituto Comprensivo della Valle di Ledro in provincia di Trento. Giovanni Bergamin, bibliotecario, è stato responsabile dei servizi informatici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dal 1990 al 2017 e membro del CEN, del Comitato Esecutivo Nazionale dell'AIB dal 2017 al 2023. E infine Lorenzo Gobbo, il nostro moderatore che è bibliotecario addetto ai servizi digitali per le biblioteche dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano e Mendrisio e membro del gruppo di studio sulle tecnologie dell'informazione nelle biblioteche e biblioteche digitali dell'AIB. Sempre molto velocemente per lasciare spazio ai nostri ospiti, vi dico giusto due parole sul perché abbiamo organizzato questo webinar. Il tema del software libero e del software open source ci sembra non abbia avuto negli anni uno spazio di discussione adeguato nel nostro settore, quello delle biblioteche, nonostante ci siano importanti documenti di indirizzo e linee guida, sia comunitari, voglio ricordare la open source software strategy, che nazionali, quindi tra gli altri il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni dell'AIB. Quindi ci è perso utile lavorare, insomma evidenziare le opportunità che ci possono consentire strumenti che generalmente adottano delle licenze e polisi di libero riuso, spesso strumenti meno conosciuti del software proprietario acquisito da grandi player commerciali. Parlo di opportunità sia rispetto ai servizi che forniamo agli utenti delle nostre biblioteche, a prescindere dalla nostra afferenza all'istituzione che rappresentiamo, sia quello che poi sviluppiamo internamente nel più ampio ambito dei GLAM, dei MUB, diciamo, sia infine le opportunità che ci sono utilizzando strumenti del genere rispetto agli accordi e alle partnership che sempre più spesso stringiamo con soggetti presenti nei territori in cui ci troviamo ad operare, scuole, università, terzo settore, eccetera. E quindi per fare questo abbiamo pensato che una buona soluzione potesse essere farci raccontare progetti, esperienze d'uso e anche criticità, ostacoli incontrati da parte di chi con il software libero e con il software open source ha a che fare quotidianamente per la propria ricerca e per il proprio lavoro. Non voglio rubare altro tempo ai nostri ospiti e quindi passo la parola a Lorenzo che introdurrà il nostro primo ospite. Grazie. Buonasera a tutti. Giusto qualche informazione di servizio per l'interazione con i relatori. Allora, pensavamo di fare prima tutti e tre gli interventi e poi nella seconda ora lasciare lo spazio alle domande. Chiunque avesse domande può o alzare la mano e poi verrà seguito l'ordine di mano o scrivere la domanda in chat che poi verranno lette ai relatori. E quindi anch'io, senza indugio, non mi sembra ci sia altro da dire e quindi passare la parola al primo relatore, Giuseppe Aceto, in rappresentanza del mondo dell'università che darà anche una prima definizione di questo universo. al di là del... Prego. Ok, grazie, buon parigio e innanzitutto grazie per la presentazione e per l'invito a condividere con voi un po' di concetti di base, informazioni e poi l'esperienza personale che ho avuto da parecchi anni, insomma quasi due decenni ormai, con il software libero in varie forme. Vado direttamente al dunque, è stato introdotto anche l'argomento. Scusa Giuseppe, si vede lo schermo nero? Non so se stai condividendo qualcosa o... Almeno io devo schermo nero. Non funziona mai. Ah, potrei essere io allora. Gli altri vedono? È nero, è nero? No. No, è nero. Riprovo. Ok. Si vede ancora? Sì, ora si vede, ora si vede. Ok. Va bene. Allora, partiamo a bomba su che cos'è, anzi cosa non è il software libero, perché ovviamente ci sono un po' di miti, sentito dire, o delle idee un po' semplificate e sbagliate riguardo al software libero. software senza licenza, sentito, software gratis. Questa è una conseguenza a volte, ma non è la definizione. Software in prova. E una particolarmente delicata è con consultazione del codice sorgente, con la disponibilità del codice sorgente. Il codice sorgente è la forma di un software che è comprensibile agli esseri umani e quella là che è necessaria per poterlo modificare, per poter anche capire che cosa fa. Quindi questa consultazione del codice sorgente, che è stata usata da qualche azienda per spacciare il proprio software per open source, non è ancora open source. Quindi, che cos'è invece il software open source? È solo una questione legale di licenza con cui viene distribuito il software. Quindi, insomma, a voi non dovrò spiegare che cos'è un diritto d'autore, ma la cosa interessante è che il software non è protetto dai brevetti, ma dal diritto d'autore, un'opera del d'ingegno, e in particolare la specifica forma con cui viene espresso il software, il particolare programma, in quel particolare linguaggio di programmazione, è protetto dal diritto d'autore. Anche altri aspetti a contorno del software sono protetti dal diritto d'autore. E quindi il software libero è del software che viene distribuito, su questa parola c'è un po' di delicatezza, ne parliamo se volete approfondire, con una licenza libera, quindi è accompagnato da una licenza con cui il diritto d'autore viene esercitato dando dei diritti a chi riceve il software. Ci sono delle espressioni abbastanza equivalenti, vengono usate quasi in modo intercambiabile, le possiamo tenere buone, come licenza open source, licenza copyleft, licenza aperta. Tutti questi termini li possiamo considerare equivalenti, e soltanto basta considerare che qualsiasi software non sia rilasciato sotto una licenza, e poi vedremo com'è caratterizzata una licenza libera, viene detto software proprietario, o rilasciato una licenza proprietaria. Quella licenza viene riportata solitamente in un file che accompagna il software, quando viene dato il software, distribuito il software, deve esserci anche questo file, o deve essere possibile andare a leggere in qualche sezione del software questa licenza. Un altro equivovo è, ah vabbè, ma il software proprietario ti dà delle garanzie, ha dei vantaggi, di per sé semplicemente significa che è una licenza non libera, e ce ne possiamo accorgere andando a leggere cosa in quel contratto di licenza viene esplicitamente vietato. Questi sono dei pezzi estratti da una reale licenza, che ho riportato sotto, quindi non si possono, cosa interessante, non si possono superare eventuali limitazioni tecniche. Cioè, c'è un problema, saprei anche come aggiustarlo, non ho il diritto di farlo, sto infrangendo il contratto. Non si può decodificare, ricompilare, di esassembrare, sono tutte quante pratiche tecniche per risalire dal software, così come ci viene dato, a una versione che è umanamente intellegibile. Quindi io accetto di non poter sapere questo software cosa fa. Non posso copiarlo, questo ce l'immaginiamo, non si può pubblicare, non si può fare un sacco di cose. Quindi in realtà una licenza proprietaria è quella che nega all'utente tutta una serie di diritti, che sono di natura automaticamente concessi al detentore del diritto, all'autore, che però questi diritti può concederli facendosi vagare fondamentalmente. Come dicevo, va bene, mi toglie tutti questi diritti, però in cambio, no, però in cambio niente, perché tra le cose che sono previste in questi contratti, ancora una volta è strappo da contratti reali, in qualsiasi momento chi offre dei servizi associati a questo software può toglierli, non è obbligato a dare supporto tecnico, ci sono escluse ogni garanzia di commerciabilità, ma anche di adeguatezza ad uno scopo preciso. Quindi io pago per una licenza per avere un software e non ho neanche la garanzia che quel software faccia qualcosa di utile come dice di dover fare. Quindi, questa è la situazione al momento e infatti c'è un'espressione che il software viene fornito così com'è con tutti i difetti e noi accettando, eseguendo il software, premendo ok, ok, avanti, avanti, ok, accettiamo il nostro proprio rischio di utilizzare questo software. Ora, questa cosa sta cambiando molto di recente, è stato appena approvato, deve ancora essere trasformato nelle leggi dei diversi paesi membri, ma ci sono una serie di proposte, di direttive, in particolare la Product Liability Directive, che è proprio quella che riguarda i diritti di chi usa un prodotto che è stata estesa per i prodotti software. e ce ne sono anche altre coinvolte. Il software libero è stato coinvolto esplicitamente nella discussione della Free Software Foundation Europa e quindi si è fatto in modo che questi obblighi di fornire delle garanzie sul software che viene dato in licenza non fossero imposti per il software libero in cui non c'è una transazione commerciale. Quindi il software libero quando viene distribuito senza un pagamento, allora ci può stare che chi riceve il software accetta di non avere particolari diritti perché lo sta ricevendo gratis e per l'amore dei e invece se paga per una licenza allora chi sta dando il software dovrà garantire dei diritti pena delle conseguenze. È ancora in corso, ancora non è di fatto attiva questa situazione, però siamo arrivati ad un ottimo punto. Ma da un punto di vista un po' più concettuale che cos'è la definizione di software libero. Un software libero con una licenza libera in quella licenza dà dei diritti a chi riceve il software e sono i diritti ho detto delle libertà del software libero sono di eseguire quel software per qualsiasi scopo per fare quello che ci pare senza limitazioni. Importante studiare quel software come funziona per sapere cosa fa come lo fa la possibilità di ridistribuire delle copie e la possibilità di migliorare e distribuire questi miglioramenti quindi migliorarlo per sé ma anche la possibilità di dare queste versioni queste opere derivate a qualcun altro. Quindi come potete immaginare questo queste possibilità era immaginabile forse non lo so sembrava utopico una trentina di anni fa ma questi anni sono il motivo per cui abbiamo tantissime tecnologie adesso internet è basata su software libero l'intero funzionamento di internet ma non solo anche cose che una volta erano buone tipo Google è stata Google è nata utilizzando software libero purtroppo una versione non era obbligata a ridistribuire miglioramenti quindi hanno messo una toppa troppo tardi comunque questo è stato rivoluzionario per tutto quello che ha a che fare con il software e noi adesso viviamo in un mondo che probabilmente non esisterebbe senza l'invenzione di questo concetto di software libero c'è anche una conseguenza interessante per chi lavora nella pubblica amministrazione perché nel codice dell'amministrazione digitale è stata fatta tutta una regolamentazione delle linee guida per per lo sviluppo e il riuso del software è scritto esplicitamente che il software sviluppato ex nuovo deve essere acquisito per contratto in modo da poterlo lasciare come open source quindi bisogna avere i diritti bisogna acquisire i diritti di poter avere quelle libertà che dicevamo prima quindi per fare questo c'è bisogno del codice sorgente ma è una questione è una conseguenza tecnica perché altrimenti non si può fare non è quello interessante è interessante l'avere quei diritti quelle libertà e quindi adesso è importante nella pubblica amministrazione sapere che si sta andando contro delle direttive esplicite bisogna questo non so fino a che punto è avanzata questa possibilità ma considerando che nell'acquisto del software di licenze software bisogna considerare se altre pubbliche amministrazioni già hanno licenze di quel software quindi bisogna dare priorità e se questo software deve essere ricevuto senza ulteriori costi e tutto questo avviene tramite l'uso di licenze open source poi tutto quello che la pubblica amministrazione sviluppa deve essere rilasciato pubblicamente come open source su delle piattaforme che sono quelle su cui normalmente sono ospitati i progetti open source per permettere non solo il controllo pubblico ma anche il pubblico riutilizzo di software che è stato creato con soldi pubblici che è abbastanza comprensibile purtroppo non è ancora la realtà delle cose e anche il software esistente che era già stato creato adesso va censito e pubblicato come open source l'unica scappatoia se questo software non è più in uso da più di 5 anni allora non vale questo obbligo nel caso invece software preesistente vada modificato quindi ci sono dei contratti di manutenzione di sviluppo bisogna mettere nei contratti di manutenzione aggiungere la necessità di dover pubblicare sotto licenza open source i risultati delle modifiche quindi abbiamo dei fortissimi incentivi nella pubblica di amministrazione ma ovviamente questa è la conseguenza della comprensione che utilizzare software open source porta dei benefici economici innanzitutto ma di lunga durata di interoperabilità di insomma si evita l'obsolescenza programmata si evitano tutta una marea di problemi ci sono tantissime licenze open source più di 70 sono analizzate dalla free software foundation c'è un'altra associazione la open source initiative che pure riporta una lista di licenze e nelle linee guida per l'adozione e il riuso del software nella pubblica amministrazione c'è una lista di criteri a quali associazioni far riferimento per sapere se una licenza viene considerata libera ai fini della legge però praticamente hanno recepito esattamente la definizione riportata la definizione del software libero e si fidano fondamentalmente dell'open source initiative che è un gruppo che fa questa analisi e uno dei risultati li vedete qui e c'è anche uno standard per indicare la specifica licenza in modo che sia riconosciuta dai vari software che gestiscono le licenze nella pubblica amministrazione e delle aziende perché ovviamente anche le aziende per rispettare i dettami legali si devono dotare di questo tipo di inventario ok velocissima storia questo questa idea di software libero è nata per iniziativa di un personaggio abbastanza controverso per fortuna anche rendita anche se ultimamente non se la passava bene è questo Richard Stolman che ha definito proprio le quattro libertà del software libero ovviamente si tratta di un esperto di informatica scriveva pezzi di sistema operativo driver e così via insomma e stava vedendo la nascente industria del software questo è il periodo in cui Bill Gates trasmise quella famosa lettera in cui diceva ai programmatori voi siete pazzi vi dovete far pagare non è il problema dei programmatori farsi vagare sono le aziende che poi insomma incamerano quei soldi tramite le licenze non tramite il lavoro dei programmatori comunque non voglio divagare questo diventa questo progetto di creare un sistema operativo GNU che possa dare all'utente il pieno controllo sulla macchina e sui software che ci girano sopra poi da vita più tardi alla Free Software Foundation e parecchi anni dopo uno studente Linus Torvalds crea un pezzo del sistema operativo dopo quel pezzo va ad inserirsi in altro software e va a formare l'intero sistema operativo in un insieme di software da lì c'è un boom terribile viene adottato come sistema operativo negli ambienti di sviluppo insomma per i server praticamente ovunque nasce Google e altre realtà viene coniato anche il termine open source che ha avuto molta più fortuna perché ovviamente era molto più appealing per molto più attrattivo anzi diciamo meno repellente a chi fa i soldi tutto qui è soltanto una questione di presentazione metteva l'accento su un aspetto tecnico la disponibilità del codice sorgente open source dicendo che questo avrebbe migliorato la qualità tecnica avrebbe facilitato l'innovazione avrebbe facilitato la collaborazione fatto partire il mercato e così via tutto vero tutto verissimo ma l'accento iniziale del progetto era sui diritti dell'utente e questa definizione open source ovviamente va a nascondere parecchio questo significato fondamentale quindi siamo stati estremamente fortunati in realtà la Free Software Foundation e chi ha partecipato è stata estremamente brava a mettere nelle leggi il concetto giusto dei diritti dell'utente che in Europa sono forti invece di caratteristiche tecniche tecnosoluzioniste che sì a volte possono essere reali funzionanti ma per il vantaggio di chi dipende ok cosa interessante che volevo aggiungere è che in realtà un software può essere distribuito sotto licenze multiple perciò quando dicevo è importante sapere come viene distribuito il software io ricevo il software insieme al software mi deve arrivare quella licenza e questo mi regola regola il contratto su come io posso usare quel software il detentore dei diritti l'autore o a chi chi ha venduto questi diritti di sfruttamento può rilasciare lo stesso software a persone diverse a enti diversi sotto licenze diverse perché sono contratti diversi di solito questi sono non esclusivi quindi attenzione perché bisogna non basta semplicemente il software bisogna sempre associare la specifica licenza con cui si è ricevuto e lo stesso software si può ricevere sotto una licenza open source di un certo tipo oppure addirittura sotto una licenza proprietaria è legale è possibile è uno dei modi con cui alcune aziende fanno business con il software open source altre offrono servizi e così via quindi c'è tutto un ecosistema che permette la sostenibilità del software open source che è complicata come potete immaginare ma funziona due cenni sui diversi tipi di licenze ci sono delle licenze permissive che praticamente dicono ok questo è il software fai quello che ti pare io non voglio sapere niente e una delle cose fai quello che ti pare che è possibile è anche rendere il software che abbiamo ricevuto così proprietario cioè lo ridistribuisco cambiando la licenza stabilendo un nuovo contratto con le persone con cui a cui sto distribuendo questo software di cui io non sono l'autore l'unica cosa che non posso fare è dire che sono l'autore io perché non è vero non posso neanche comprarlo questo diritto però con questa licenza mi è stato dato il diritto di fare quello che voglio anche rivenderlo ok ma non soltanto rivenderlo anche rivenderlo con una licenza proprietaria cioè che nega chi riceve questa copia di fare quello che ho fatto io queste sono le licenze cosiddette permissive BSD like MIT ISC sono tutte quante una serie di licenze formalmente differenti ma praticamente uguali da questo punto di vista mentre c'è un tipo di licenza che è stata ideata da quel progetto che vi dicevo storico GNU infatti GNU General Public License si chiama che invece è più forte più forte nella tutela dei diritti infatti viene detta copyleft che è uno dei termini che viene utilizzato per le licenze aperte questa particolare licenza è di tipo copyleft e significa che quando io ridistribuisco il software o eventuali lavori che ho modificato insomma lavori derivati sono obbligato a ridistribuire il software con la stessa licenza con cui l'ho ricevuto io allora attenzione non è obbligatorio ridistribuirlo ma se lo ridistribuisco devo darlo con la stessa licenza è una sottigliezza che spesso viene confusa ok quindi lo posso usare per tutto quello là che voglio non ho nessun particolare obbligo se non quello che quando lo ridistribuisco e se lo ridistribuisco devo dare gli stessi diritti quindi dare le libertà dare accesso al codice sorgente altrimenti le libertà non si possono godere ci sono altre varianti per esempio il software libero è stato usato in dispositivi che controllavano il software e impedivano di utilizzare una stessa variante quindi questo sulla carta era software libero ma non diventava smetteva di essere software libero perché poi potevo modificarlo ma non me ne facevo niente perché su quel dispositivo non potevo mettercelo perché c'erano dei blocchi hardware quindi è stata questa era una scappatoia per come era stata scritta la licenza alla versione 2 quindi la versione 3 dice esplicitamente che non si può fare questa cosa perché smette nella nel concetto nello spirito di essere software libero perciò erano importanti le libertà e adesso il software viene offerto tramite cloud quindi io non lo installo neanche questo è stato un altro modo con cui è stata girata la gpl quindi no vabbè ma io il software non lo ridistribuisco allora hanno dovuto creare un'altra versione la affero gpl versione 3 che dice che se io uso quella versione del software per offrire dei servizi online ai miei utenti devo dare le libertà che ho ricevuto io nel ricevere il software quindi gli devo dare questa volta per forza il software il codice sorgente con licenza affero gpl versione 3 questa qui è quella che si potrebbe consigliare a tutti quanti gli sviluppatori se dovete sviluppare qualcosa di nuovo piazzate la gpl versione 3 così forzate la maggiore utilità per gli utenti e la comunità e se qualcuno invece vuole una versione del software su cui vuole fare i soldi senza ridistribuire le modifiche senza ridistribuire senza neanche dirlo che lo sta usando gli potete dare il software con una licenza proprietaria facendovi pagare per il disturbo quindi la multilicensing è molto utile per questa flessibilità quando si ha a che fare con l'hardware è ancora molto problematico c'è un movimento l'open hardware sono un paio di varianti diverse organizzazioni nate del tempo che dicono anche l'hardware dovrebbe essere open nel senso dovrebbe poter essere studiato modificato insomma immaginate con i problemi di proprietà intellettuali che ci sono è ancora più difficile la cosa interessante è che l'open hardware richiede che qualsiasi software o la documentazione eccetera sia ancora rilasciato come open source e licenze libere per l'utilizzo ok questo era un po' tutto vi do giusto velocemente un po' di esperienza personale professionalmente io da ricercatore sono stato molto fortunato la fortuna è stata un incrocio perché avere dimestichezza col software libero e con l'informatica pure mi ha introdotto in questo in questo ambito di ricerca e la mia fortuna che lì tutti i server tutti i servizi tutto quanto software libero nella ricerca scientifica si utilizza tantissimo software libero almeno nel mio settore anche per scrivere i testi per scrivere gli articoli scientifici si usa l'atec quindi non word per fortuna da docente anche uso gli strumenti così per interfacciarmi con gli studenti open board per esempio come software per avere la lavagna la condivisione l'uso tavoletta grafica e così via l'unica difficoltà per esempio durante la pandemia Teams funzionava male da dentro il browser per il resto insomma è andato tutto bene purtroppo abbiamo Teams e Microsoft questo è uno dei problemi dentro all'università pubblica e purtroppo è molto difficile poter usare poter usare software libero all'università di Napoli abbiamo horde per la mail e almeno quello è ancora salvo ok invece come esperienza personale io uso Linux da più di vent'anni qualche problemino con qualche hardware che purtroppo si risolve essendo più selettivi quando si compra hardware provandolo prima ci sono adesso c'è più offerta per esempio di laptop che sono garantiti funzionanti con Linux e con OpenSUSE ne ho riportate alcuni dei nomi di rivenditori altri problemi tipici formati di file proprietari e ancora anche dopo la dichiarazione di formato aperto di open document format teoricamente dovrebbe essere aperto in realtà ci sono ancora problemi per chi usa chi usa LibreOffice e cerca di scambiare documenti con l'ambiente Microsoft Office sa che in alcuni casi l'estetica del documento non viene rispettata e riportato un paio di informazioni utili chi è costretto a usare software soltanto per Windows ci sono dei metodi per esempio c'è uno stradale di compatibilità Wine una versione molto usabile si chiama Bottles oppure addirittura ambienti di emulazione quindi si simula si emula il comportamento di un intero computer ci si installa dentro Windows e lo si usa per quello che si deve usare per forza software non necessariamente bisogna usare Linux tantissimo software open source e multipiattaforma è la regola ci sono delle eccezioni ma la regola è che multipiattaforma quindi non dovete per forza usare Windows i vostri amici e parenti non devono usare per forza Windows colleghi potete dare il software e funzionerà anche in altri in altri sistemi operativi e addirittura sullo sullo smartphone se utilizzate FDroid di sopra troverete una marea di applicazioni alternative la cosa interessante è che queste applicazioni sono open source viene verificato che è disponibile attivamente manutenuto il codice sorgente e viene fatta anche un'analisi di caratteristiche poco desiderabili o raccolta di informazioni personali oppure se si usano strumenti cloud e quindi cloud non liberi e quindi insomma si uso l'applicazione libera però sono condizionato da qualcos'altro che non è libero ok in tutta quanta la mia insomma vita professionale e personale con il software libero è stato fondamentale avere un gruppo di persone esperte o interessate a queste tematiche i Lug gruppi di appassionati sono diffusi in tutta Italia sono in tutto il mondo e vabbè io faccio parte del Nal come avevamo detto quindi se poi ne volete sapere di più è uno dei Lug molto meglio andare a quello là più vicino a voi perché è una questione di comunità di incontrarsi fisicamente come penso tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentare di recente e di persona si stavano altro tipo di rapporti e quindi un'alleanza in questo senso è sempre piacevole oltre che utile va bene allora io ho terminato quindi aspetterò per le domande a fine degli interventi grazie per l'attenzione e la pazienza a presto grazie grazie Giuseppe sono sicuro che dopo ci sarà un bel dibattito visto che sono argomenti ampi molto ampi allora passerei la parola al secondo relatore Matteo Ruffoni rappresentanza dell'ambito della scuola che presenterà una serie di strumenti open source messi a disposizione dell'istruzione prego Matteo ciao a tutti sono Matteo Ruffoni vediamo di per iniziare bisogna togliere l'altra rubo lo screen share ok arrivo io con il mio screen share dunque direi sì sì ok vediamo se ce la facciamo dovrebbe essere Anstar secondo me da condividere questo condividi vediamo se ce l'ho fatta ovviamente no sì sì noi vediamo voi vedete il mio schermo quello giusto spero vediamo un browser con la pagina Enel PC esatto sì vedete il sito di Mindtest sì perfetto allora è proprio quello che io vorrei mostrarvi allora io intanto mi presento sono Matteo Ruffoni sono un insegnante di matematica scienze e molto codica informatica presso una scuola media sono un attivista del mondo del software libero più o meno da 25 anni sono stato membro di LS di Wikimedia Italia e ho a tutt'oggi insieme a Paolo Mauri che è qui con noi mi sembra gestisco organizzo promuovo l'utilizzo software libero e una mailing list che si chiama Lavagna Libera frequentata più da un migliaio scarso di insegnanti italiani che più che altro guardano le cose che io e Paolo ci mettiamo a proporre e credo di essere una mosca molto bianca perché nel mio istituto tutta la parte didattica la parte didattica non la parte amministrativa non illudiamo le persone tutta la parte didattica è gestita con software libero ho un server a scuola su quale ho installato una distribuzione Proxmox è una grande virtualizzatore di servizi online ho montato su quello un altro server Zential che serve appunto a dare collegamento internet più una serie di piccoli servizi a tutti i miei studenti e tutti i computer della scuola utilizzati dagli studenti hanno a bordo una distribuzione Linux che in genere è Ubuntu Mate oppure una Ubuntu normale la differenza che Ubuntu Mate ha un'interfaccia ancora a menu e per un po' di tempo ho pensato che fosse interessante che ci fosse un menu soprattutto per le mie colleghe maestre ed insegnanti più che per i miei studenti che vanno dai 6 ai 13 anni e di problemi con l'interfaccia non ne hanno più da qualche anno però mi sembrava corretto avere questi menu e comunque lasciare queste cose confessione per confessione come quella prima del mio collega dell'Università di Napoli alla fine sotto tutto questo gira e serve moltissimo la suite di Google e quindi molti lavori vengono fatti con la suite di Google che è inutile negarlo è un gran da un punto di vista software è un gran bel lavoro e permette lo scambio delle mail nonché la condivisione di una serie di prodotti software documenti scritti mappe cognitive disegni tutto quello che volete voi oltretutto in una maniera nativa e molto potente io penso sempre molto alla scrittura collaborativa cioè alla possibilità che quattro miei studenti in genere un'attività di questo genere la faccio partendo dalla terza elementare i miei studenti si mettano su un documento e in quattro persone si mettono a scrivere lo stesso documento dalla prima elementare faccio usare strumenti liberi per esempio una lavagna whiteboard che potete trovare su un sito che si chiama Dida Sharing per dirne una ma ce ne sono anche altre che è questo strumento che state vendendo a mia sinistra che permette di fare disegni collaborativi quindi i bambini non scrivono ma disegnano tutti insieme questa è una cosa molto importante una grande raccolta di software collaborativi per adesso ok una grande raccolta di disegni di software liberi e collaborativi online la trovate sul sito ladigitale.dev io vi ho messo un file di link dei link che vi sto mostrando un elenco di file dentro la chat e dunque adesso se riuscissi ad aprire la chat adesso dice che ce la faremo Matteo vai che ce la fai share pause share companion more chat perfetto forse mancava ecco non avevo messo questo 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 link nella digitale punto dev troverete un sacco di questi strumenti che vi faccio vedere tra i quali anche una labagna collaborativa che potete utilizzare con i bambini adesso lo prendiamo in italiano perfetto la traduzione in italiano è stata fatta grazie a Paolo Mauri che è il mio collega e compagno di avventure in queste avventure qua per esempio potete avere DigiBoard si chiama adesso non è partita traduzione ma non è così importante insomma qui sono tutta una serie di piccoli software online che permettono di fare questi lavori per esempio disegnare insieme dei bambini collaborativamente io mi scuso non ho intenzione di mostrarvi i software come funzionano perché preferirei usare il tempo che ho non so 20 minuti a farvi una veloce carrellata di tutti questi software per provare questi software che sono tutti di una semplicità pazzesca la maggior parte delle volte basta cliccare su Utilizer in francese io non conosco il francese quindi scusate le mie pronunce e vedrete che vi appare una lavagna scambiate questo link con qualcun altro e fate tutte le prove che volete molto semplici e divertenti però ecco dicevo una cosa che per me è importante è appunto utilizzare questi strumenti collaborativi tutto quello che vi mostro dopo aver fatto la premessa con Google sono tutti strumenti collaborativi tutti open source spesso dovuti alla illuminazione e alla forza che hanno i nostri colleghi francesi che si lavorano molto con software libero supportati dalle loro istituzioni dalle loro amministrazioni scolastiche politiche istituzionali eccetera eccetera noi in Italia ecco da questo punto di vista non siamo così sopportati nel momento in cui proponiamo l'utilizzo di software quindi dicevo possibilità di disegnare tutti insieme possibilità di scrivere tutti insieme ad esempio per scrivere tutti insieme con bambini più piccoli ma anche più grandi in maniera molto veloce senza bisogno di fare utenze molto forti ma con semplicemente degli utenti per entrare nel documento si può usare Etherk Etherpad che nella versione francese non ricordo come si chiama mi auguro che il mio amico Paolo eventualmente ve lo aggiunga nella chat lui è più ferrato di me da questo punto di vista si trova Etherpad facilmente ecco Digidoc grazie Paolo Digidoc è il nome del software che troviamo sulla digitale punto dev che ci permette di creare documenti collaborativi scritti tutti insieme tutti questi strumenti nel lavoro scolastico prima elementare terza media per quel che mi riguarda ma mi capita spesso di fare dei progetti anche per le superiori sono molto importanti e mi aiutano ad introdurre strumenti un attimino più pesanti diciamo per quel che riguarda la collaborazione innanzitutto un progetto che si chiama Wikidia che sarebbe una Wikipedia per bambini deve essere scritta in un linguaggio compressibile dagli 8 ai 13 anni che negli anni grazie al lavoro mio di Paolo di Valeria di altri insegnanti che ci hanno creduto è arrivata ad avere 9.662 voci in italiano partendo da mille voci siamo il secondo progetto europeo dentro Wikidia per lingua il primo ovviamente è francese e abbiamo 9.900 9.500 9.600 pagine di scritte collaborativamente qua vi posso mostrare anche un esempio vediamo se mi fa scrivere no purtroppo non c'è verso di attivare la scrittura su ste pagine spostandomi eccolo qua ce l'ho fatta perfetto vi mostro la pagina abete bianco che è una pagina pensate scritta collaborativamente da una terza elementare non solo fantastico riuscire a introdurre in terza elementare il concetto di bibliografia di fonti bibliografiche dove loro per fonti bibliografiche scrivono l'intervista al custode forestale Serafini Andrea ovviamente per dei ragazzini di 8 anni la fonte è stata la persona che gli ha spiegato le proprietà dell'abete bianco i ragazzini hanno lavorato divisi in tre è stato da un punto di vista didattico un progetto molto importante se i ragazzi abbiamo anche pagine più complicate sempre trascinando un attimo la finestra vi mostro bronchi bronchioli questo diventa già il lavoro questo è il lavoro fatto da una ragazza di terza media prima seconda terza media cominciano a diventare pagine che assomigliano molto a quelle di wikipedia tenete conto che oltretutto io sono un insegnante che aderisce molto all'idea che le cose si imparano se le si fa se me le raccontano e se le studio si le imparo ma mi devo essere allenato molto cioè dove ho studiato molto nella mia vita per arrivare a imparare veramente studiando ma soprattutto alle scuole elementari e medie dove la popolazione è tutta e non solo quella che si dedicherà poi ad approfondire gli studi è molto importante che loro facciano delle cose imparino i bronchi bronchioli perché hanno scritto sopra una pagina perché si sono interessati a capire dove trovare le informazioni e via dicendo però partendo da lì poi abbiamo la partecipazione a Wikiversità che è un sito per la scuola che riporta pagine per la scuola giusto per darvi una veloce idea ad esempio contare con i numeri naturali questa è una pagina che ho scritto io collaborando in qualche modo con i miei studenti e sono pagine che tutto sommato si dovrebbero avere il ruolo di sostituire piano piano i libri scolastici si passa da Wikibooks dove appunto con Paolo stiamo scrivendo un enorme manuale per l'utilizzo di software libero a scuola chiaramente noi siamo interessati all'utilizzo di software libero a scuola e in questo caso siamo anche aiutati da studenti nel momento in cui imparano le cose quindi abbiamo gli strumenti per le lavagne la geometria fino ad arrivare a giochi e videogiochi se vi esco giochi educativi eccoli qua una serie enorme di giochi educativi e tra un po' vi mostrerà anche il gioco educativo anzi andiamoci subito visto che ne ho parlato il gioco educativo per eccellenza che sto usando con 250 bambini è questo si chiama Minecraft è un videogioco al quale si gioca in un mondo simile a quello di Minecraft chiunque di voi ha figli o nipoti sa bene che cosa è Minecraft e in questo mondo si costruiscono grandi cose qua dentro i miei studenti hanno fatto la riproduzione della moschea di Santa Sofia nonché della piazza di Venezia ma visto che eravate bibliotecari la cosa anche interessante di questo mondo è che si possono scrivere libri e mettere in giro per il mondo delle biblioteche il cubo che vedete davanti a voi è un libro è appunto una libreria questa libreria contiene i libri quelli senza cinghia non sono scritti quelli con la cinghia posso trascinarli nella mia barra e leggerli aspettate un attimo e leggerli ecco qua e questo è un libro scritto nella mia libreria che io posso aver sistemato in una mia casa per rimetterlo rimettiamolo a posto per non rubare il libro in libreria ecco qua questo è Mindtest un giochino che come vedete permette la riproduzione di tantissime cose tra le varie cose questa possibilità di scrivere all'interno di questo mondo dei libri questo gioco a questo gioco sto facendo giocare praticamente tutti gli studenti della mia scuola dalla terza elementare fino alla terza media adesso devo andare a spegnerlo perché mi è partita dell'acqua quindi anche qui software libero un gioco libero un gioco che si può costruire un gioco che porta ad apprendere molte cose dentro Mindtest posso costruire centrali elettriche o le turbine elettriche posso costruire circuiti elettrici posso far accendere e spegnere lampadine posso costruire circuiti logici posso programmare piccoli robot che svolgono dei lavori posso come dicevo riprodurre l'architettura di città intere di piazze di musei di cose che mi interessano anche qui fantastico è la possibilità di dentro dentro Mindtest troviamo una wiki troviamo la possibilità di scrivere questi libri che vi ho fatto vedere una wiki tutto spiegato su Wikibooks software libro per la scuola è uno dei link nel documento che vi ho dato ovviamente poi io utilizzo anche un software che è del tutto un software per la scuola credo che il mio collega dell'università lo utilizzi a scuola insieme a insieme a Google come dicevo io utilizzo Moodle Moodle mi permette di fare di mettere del materiale per i miei studenti e soprattutto di creare dei quiz eccolo qua ve lo sto mostrando dove posso abbastanza facilmente lavorare e produrre dei quiz a cui loro devono rispondere poi io se sono dei quiz di allenamento bene se no gli do il voto posso condividere con loro del materiale o all'interno delle chat di Moodle io lo utilizzo soprattutto per i quiz sappiate che la cosa interessante in questi anni mi sono costruito un database di 2000 domande di argomento matematico scientifico programmi prima terza media e quindi quando ho bisogno di fare una oltretutto le domande sono gestite con dei tag cioè abbastanza organizzato quando ho bisogno di fare dei quiz vado lì preparo il mio quiz e track questo è molto scolastico e non è così creativo come l'utilizzo di Mindtest e poi ecco progetti che gestiamo online uno dei progetti che gestiamo online si chiama Didasharing contiene un Moodle che può essere provato è stato questo Moodle è stato ereditato da un altro progetto che sempre coinvolgendo Paolo e altri amici Marco Cassisa Stefano Lotti abbiamo fatto insieme nell'installazione di Moodle di OpenDidattica.org che era il primo progetto che abbiamo messo in piedi come piattaforma libera imitando gli amici francesi durante il Covid Paolo Mauri Francesco Fusillo e altri amici hanno raccolto fino a 500 utenti di questo Moodle che erano gli studenti per i TFA credo si chiamino ancora così per entrare a scuola e prendere una cattedra a scuola poi vi ho già fatto vedere che c'è una lavagna c'è un DigiScreen che è una lavagna per insegnanti c'è un server BigBlueButton che fa un po' il lavoro che fa Zoom e altri software che piano piano se riusciremo sia a mantenere finanziato il progetto che a farlo noi ci lavoreremo se vogliamo abbiamo provato anche per molto tempo a tenere sempre su un server ora non l'abbiamo più ma c'è ancora l'originale un sistema di scrittura condivisa che è CryptPad mi sembra che Claudio mi abbia condiviso delle cose appunto con CryptPad per fare questo incontro è una una suite di programmi per la scrittura collaborativa per la condivisione di file che assomiglia molto a Google Suite magari un pochettino più contenuto e poi sia nel mondo Libro della geometria GeoGebra per fare disegni Scratch per programmare io immagino lo conoscono ormai tutti si programma con dei fantastici tab si creano si riescono a creare piccoli programmini per i ragazzini sono cose bellissime e nelle versioni che poi piano piano l'hanno complicato con uno Scratch che contiene uno Scratch che contiene la intelligenza artificiale questo machine learning for kids punto punto uk barra Scratch contiene intelligenza artificiale e anche uno Scratch sempre derivato dallo Scratch a primigenio che permette la scrittura di programmi collaborativi sono assolutamente indispensabili per portare i ragazzini non tanto a diventare programmatori che comunque va bene per quelli di loro che avranno voglia di diventare programmatori ma che secondo me sono assolutamente indispensabili per far sì che tutti diventino consapevoli dell'utilizzo degli strumenti digitali cioè perché il mio telefono funziona così è perché sotto c'è della programmazione mi viene in mente che in questo momento sui telefoni grazie al Meet di Boston abbiamo Octo Studio altro software libro di programmazione che permette cose molto divertenti insomma poi abbiamo altri mille altri mille software che possiamo usare liberamente sia residenti sulle nostre macchine ma come vi ho fatto vedere appunto per la condivisione del lavoro e del sapere forse è il momento di seguire la via francese cioè di utilizzare piccoli server che permettono di distribuire il lavoro concludo dicendovi ho guardato prima quali fossero i software open source che permettono la gestione di biblioteche ce ne sono forse è il caso che qualcuno faccia uno sforzo per arrivare a quello ce ne sono per gestire la libreria personale ma ci sono soprattutto che mi interessano sempre molto allora per fare il sito delle scuole utilizziamo in generale wordpress enorme software libero che permette veramente un grande lavoro da un punto di vista della condivisione del proprio sapere io ci guido i miei studenti a scuola con un sito che si chiama matrufoni.it fatto con wordpress che mi permette appunto di dare loro dei post quotidiani sugli esercizi le cose da fare e altre cose divertenti ho guardato per ridere se esistesse un plugin di wordpress per la gestione di un piccolo database di libri esiste si chiama bookpress ovviamente non l'ho mai usato ma credo proprio che un giorno potrei mettermi ad usarlo per la mia libreria personale è un tentativo che ho fatto tantissime altre volte non sono mai riuscito ad andare molto avanti però interessante e quindi potrebbe permettere a chi ha una biblioteca di mettere un catalogo non dico di prenotazione però magari un modo carino per presentare l'elenco dei libri che ha ricordo che un enorme progetto di condivisione nel mondo delle wiki è wikidata dentro il quale sarebbe bello avere l'elenco di tutti i libri che abbiamo in circolazione in tutte le lingue del mondo ma cominciamo con quello in italiano io ci ho un po' provato e poi non essendo un bibliotecario mi sono un po' arreso su una serie di dati che non riuscivo a comprendere fino in fondo c'è un plugin vi l'ho messo qui che si chiama Zotero che funziona per inserire direttamente i libri dentro wikidata ma qua credo ci siano bibliotecari più esperti di me però ecco lancio il mio appello e dico utilizziamolo perché poi le persone normali lo utilizzeranno e penso invece semplicemente al fatto che questa sera prima mentre parlava il professore Accetto prima di me a un certo punto mi è venuto in mente che avevo bisogno di un plugin per mandarvi il testo con tutti i link me lo sono cercato su WordPress in due secondi ho trovato copy all tab URL ho usato quel link ho copiato tutte le finestre che avevo aperto e vi ho condiviso vi ringrazio molto per l'attenzione e ringrazio ancora Paolo la persona con cui ho tuttora collaboro lavoro e invento queste pazzie per cercare di portare il software libero dappertutto e almeno i principi della condivisione della conoscenza grazie comunque avrei già un sacco di domande dovremmo rimandarle a dopo come tutti comunque a difesa del mondo bibliotecario in questo ambito adesso ci sarà l'intervento di Giovanni Bergamin che diciamo sono qualche anno che si spende per questi temi e gli lascerei direttamente la parola prego Giovanni allora dunque la condivisione dovrebbe essere partita sì la vedo allora intanto metto il timer cerco di stare nei 20 minuti in maniera tale che poi se appunto se 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 ci sono appunto domande di di avviare una chiacchierata tra noi parlare per ultimo è sempre interessante anche se devo dire la mia relazione toccherà cioè la mia relazione la mia la mia chiacchierata toccherà diciamo lo vediamo subito affronterò proprio la scelta del software in biblioteca allora intanto partiamo da due slide fondanti prima è stato citato l'articolo 69 dei CAD io cito il 68 del CAD dell'amministrazione digitale allora premesso appunto che le biblioteche spesso non è sempre così fanno parte anche della pubblica amministrazione diciamo il CAD generalmente appunto è qualcosa che dovrebbe essere seguito vedete che i principi per la scelta del software deve venire sulla base di questi che vedete l'ultimo molto interessante la neutralità tecnologica la neutralità tecnologica include evitare i lock-in cioè rimanere legati a un fornitore non riuscire ad uscirne e collegato a questo anche facilitare le migrazioni perché inevitabilmente il software per gestione della biblioteca diventa nel tempo obsoleto e bisogna oppure si entra in un'altra rete bisogna usare altri software e quindi bisogna effettuare delle migrazioni qui vedete l'ordine di precedenza quando si sceglie il software allora se si deve scegliere un nuovo software la precedenza è il riuso del software già sviluppato per la pubblica amministrazione al terzo posto troviamo il software libero o codice assorgente aperto questa è la formulazione attuale del CAD attuale poi abbiamo la preferenza per il cloud computing che diciamo anziché essere il nostro hardware è l'hardware di qualcun altro ma insomma è sempre un hardware c'è ancora la possibilità bisogna ovviamente giustificarla di usare un codice proprietario mediante ricorso a una licenza d'uso oppure un software in combinazione la combinazione di quello che abbiamo visto prima e fin qua il codice dell'amministrazione digitale allora la mia carrellata è su dei casi reali allora intanto un progetto europeo che si chiama Progetto Arro del settembre 2011 qui vedete la pagina che ho riportato che è ancora attiva del nostro ministero il ministero della cultura British Library annuncia nel 2011 British Library sta con Arro il sistema frutto del progetto di ricerca europea coordinato da AIE e ne dimostra con uno studio di vantaggio tra l'altro il software nelle specifiche dice di essere basato tutto su open source eccetera con Arro bastano cinque minuti per rintracciare i titolari di diritti d'autori delle opere da digitalizzare prima servivano quattro ore al libro ora se seguiamo questi link il primo troviamo la pagina della British Library che in questo momento ha qualche problema nello studio che è stata attaccata e quindi nello studio che ha pubblicato pensa di ritornare attiva tra qualche mese i tempi stimati per riuscire a ritornare attiva informaticamente solo l'anno se invece andiamo qui Arro.net come vedete non c'è più niente il dominio se volete lo potete acquisire quindi Arro non esiste più non è colpa del software ma comunque non esiste più però che cosa c'è ancora se noi andiamo a guardare la legge sul diritto d'autore l'articolo 69 quindi aggiornato ci dice che le fonti sopra come si fa una ricerca dirigente la ricerca dirigente sono tutti i repertori che bisogna vedere per dire che non sono riuscito a rintracciare l'autore quindi l'opera è orfana e quindi posso a determinate condizioni digitalizzarla le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente attraverso sistemi che consentono l'interazione integrate quali VIAF che molti bibliotecari conoscono e Arro qui c'è la decodifica di Arro ma Arro non esiste più quindi esiste nell'articolo del la legge 633 sul diritto d'autore mi è caduto mi è caduto una cuffia ecco scusate l'ho recuperata però appunto non è più usabile nel 2009 moltissimi progetti europei sulla digital preservation ricordo Planets 2009 se voi andate sui repository dove appunto viene pubblicato il software diciamo è un cimitero non c'è più niente di usabile da che cosa dipende questo dalla poca bontà del software assorgente aperto ovviamente no ci sono tanti altri progetti che funzionano qui faccio in maniera del tutto parziale tre esempi per esperienza diretta ma ce ne sono tanti altri il primo sulla digital preservation questo è GitHub GitHub dell'IIPC International Internet Preservation Consortium e qui trovate su GitHub software assorgente aperto perfettamente mantenuto funzionante e usato per esempio c'è il famoso Heritrix Heritrix è in pratica il software che usa Internet Archive per e moltissime biblioteche nazionali l'IIPC è fatto da biblioteche nazionali tra i partecipanti c'è Internet Archive e dei software per l'harvesting e la raccolta sostanzialmente dei siti web un prodotto che sto sperimentando moltissimo in questo dal 2021 in pratica disponibile è stato annunciato poi insomma versione alfa ora diciamo sta funzionando bene il vostro Wikibase in 5 minuti torna i 5 minuti che abbiamo visto prima ma questa volta i 5 minuti sono effettivi e si possono fare cose molto serie e si può davvero imparare come funziona il web semantico in pratica e nella vita reale non solo in teoria o per appunto delle letture che abbiamo fatto ed è davvero ovviamente non mi soffermo ma è molto importante cito come esperienza che rispetta totalmente l'articolo 68 69 del card cioè sul codice assorgente aperto prodotto 69 quello prodotto dalla pubblica amministrazione SBN Web Open totalmente assorgente aperto e ora vedremo che cosa è importante che cosa decreta il successo o il fallimento di questo tipo di esperienze quali sono gli elementi che contano perché un codice diciamo un software di questo tipo funzioni allora ci deve essere una comunità una comunità che 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 fruisce che vigila il software deve essere usato se il software non viene usato è chiaro vuol dire che probabilmente non se ne vede la necessità oppure è inusabile i motivi sono tanti quindi una comunità che lo utilizzi e poi l'open source maintainer che tra l'altro il card viene previsto nel codice dell'amministrazione digitale cioè chi sostanzialmente è responsabile del mantenimento del software sia attivo e abbia anche diciamo un piano di lavoro un business model chiamiamolo come vogliamo sostenibile qui vedete che cosa significa comunità a un certo punto lavorando in Wikibase Cloud i tempi di risposta erano veramente lenti e ho usato il canale Telegram per dire ma sono solo io oppure i tempi sono lenti per tutti e mi è stato risposto nel giro di 5 minuti sono lenti per tutti c'è qualche problema ed è importante l'open source maintainer chi ha la responsabilità di coordinare lo sviluppo appunto deve esistere un meccanismo istituzionale nel caso per esempio dell'IQ se ne occupa l'IQ di mantenere questo il software oppure c'è un business model oppure l'esempio tipico dei progetti Wikidata Wikiasterisco diciamo ma non sempre seguendo le migliori prassi uno segue tutte le migliori prassi e le cose poi funzionano per esempio ora diciamo mancano pochi minuti Wikidata sostanzialmente deve gestire tre database il primo è stata citata prima il primo è un database sostanzialmente basato su MySQL è il vero database primario dove stanno tutti i dati il secondo è un database che permette la ricerca full text il terzo un database quindi sia il secondo che il terzo replicano tutti i dati il secondo la ricerca full text il terzo la ricerca Sparkle il diciamo elaxi search per la ricerca full text blaze graph è per la ricerca Sparkle che cosa è successo che nel 2019 blaze graph interrompe lo sviluppo perché perché tutta l'equipe di blaze graph decide è stata assunta da Amazon sostanzialmente e decide di lavorare a un prodotto che si chiama Neptune per AWS nel 2021 diciamo in maniera molto detta non solo mia ma di tutti molto intelligente Wikidata apre una crisi ma con tutta la comunità cioè comunica le cose come stanno e dice che vista l'enorme crescita di Wikidata il rischio è di una un fallimento problemi fallimento catastrofico ecco non di perdita dei dati in realtà di perdita di funzionalità ovviamente le query Sparkle sono sono importanti il quindi il problema lo sottolineo è proprio su blaze graph non la faccio lunga ma visto che il tempo rapidamente sta finendo allora il piano A ovviamente è individuare un sostituto di blaze graph il piano B è quello di comprare tempo cioè avere più tempo per fare l'operazione di migrazione di sostituzione con sezionamenti del grafo Wikidata ad esempio voi sapete su Wikidata ho visto prima Carlo Bianchini e anche altri che diciamo si occupano di caricare su Wikidata le riviste accademiche gli spogli di riviste accademiche e diciamo ecco un grafo potrebbe essere dedicato una sezione del grafo alle riviste accademiche quindi in pratica diciamo la previsione di cercare su tre grafi diversi su più grafi diversi quindi con sostanzialmente uno Sparkle federato questo per assicurare poi una migrazione come vedete le cose sono diciamo abbastanza complicate però si possono gestire il tutto in maniera trasparente e tutto in maniera ben documentata dove tutti possono effettivamente intervenire la differenza come anche nel caso della British Library è la differenza di chi si occupa di accesso aperto cioè non vengono nascosti nemmeno i problemi sarebbe stupido ovviamente nascondere sono stato perfettamente nei tempi anzi qualche minuto prima vi ringrazio per la pazienza grazie Giovanni innanzitutto faccio i complimenti ai tre relatori per aver fatto tre interventi senza mai di fatto mostrare o menzionare una riga di codice anche a dimostrazione di quanto l'open source sia solo relativamente una questione di codice una questione soprattutto come diceva Giovanni di trasparenza e serve la trasparenza in tutta la filiera di produzione e distribuzione dei codici se ci sono domande da parte di qualcuno potete tranquillamente alzare la mano e prendere la parola oppure scrivere in chat se vogliamo temporeggiare io qualche domanda ce l'avrei anche perché mi sembra che sia si intersechi con tutti e tre gli interventi che è quella relativa alla sicurezza perché comunque siamo in un momento storico non proprio indifferente e Giovanni prima menzionava la British Library e cominciano ad essere un bel po' diciamo gli attori colpiti tanto la British Library ha avuto un disservizio di settimane internet archive è appena stato attaccato insomma e per l'open source la sicurezza è una questione non da poco uno per la velocità di risposta della community e due anche di responsabilità per un'azienda perché un conto è rispondere direttamente nei propri errori un conto è farsi carico se Giuseppe o Giovanni visto che Giuseppe insomma è più un docente universitario quindi penso che una materia così complessa sia richieda se volete posso dare un paio di riflessioni sulla questione la prima è che la sicurezza è un processo quindi significa che non è che pagamo il software che è sicuro o non sicuro ma è come viene manutenuto fondamentalmente il software anche perché per le esperienze che si stanno avendo adesso credo sia evidente a tutti che anche il software nelle migliori condizioni comunque è soggetto a problemi di sicurezza i famosi zero day cioè delle falle che non erano note al momento dell'utilizzo del software dell'utilizzo dell'attacco ecco della messa in opera dell'attacco quindi significa che ci deve essere sempre qualcuno che possa non appena viene scoperto un attacco e comunicato attraverso i vari mezzi la presenza di questo problema nelle varie installazioni di quella particolare versione di quel particolare software chi ha la gestione dell'infrastruttura deve poter insomma applicare le mitigazioni eventualmente rendere temporaneamente non accessibile il servizio e così via e poi procedere a renderlo più sicuro quindi c'è bisogno di qualcuno che compia questo lavoro allora prima di di questa legislazione europea era molto più complicato non era tanto chiaro era più una questione se volete di 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 una questione legale diretta dei 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 coinvolti quindi di chi usufriva di un servizio che tipo di accordi avesse e così via quindi bisognava andare praticamente davanti a un giudice per stabilire le responsabilità reali e quanto fossero applicabili quelle clausole del contratto che vi ho citato di insomma di di rinuncia di ogni tipo di responsabilità da parte di chi fornisce il codice questo non è possibile anche nell'ordinamento italiano però non era automatica la questione adesso invece è chiarissima quindi non è pensabile di scrivere accettare questo tipo di contratti quindi ci sarà qualcuno che se ne deve far carico e se ne deve far carico chi fa un commercio relativo a questa infrastruttura tra cui anche il software perché è l'unico che ragionevolmente ha motivo e anche strumenti per aver fatto nel senso può pagare qualcuno per fare questo tipo di attività nonostante il fatto che il software open source invece sia caratterizzato dal fatto che potendo tra la questione della trasparenza visto che si viene a sapere del problema viene comunicato esattamente dove si trova e c'è tantissima gente ci sono tantissimi stakeholder che hanno la capacità di agire dal punto di vista della sicurezza quindi viene rilasciato una correzione alla falla che poi possano adottare anche gli altri ma almeno un sistemista che possa andare quindi un tecnico che possa prendere la soluzione che è stata appena pubblicata ed applicarla al particolare sistema o la mitigazione e così via ci vuole e deve essere ovviamente pagato e quindi qui c'è immagino un finanziamento dall'ente che sta utilizzando quindi come si pagano i tecnici per gestire gli strumenti e così ci devono essere delle competenze o locali o insomma acquistate esternamente ma devono essere previste e quindi con questo tipo di contratti e quindi da un certo punto di vista l'Europa non dico che sia mossa per tempo ma essendo enorme il processo è stato molto lungo nei link che ho riportato insomma c'è tutta la storia di questi questi sono quattro proposte di legge differenti che riguardano diversi aspetti ma tutte quante riguardano il software in qualche modo quindi sull'intelligenza artificiale responsabilità sul prodotto cyber resiliency e proprio sulla sicurezza eppure sull'interoperabilità quindi diciamo non dico che l'avvenire errose o no però è riconosciuto il problema e credo sia anche abbastanza evidente una via chiara per affrontarla ecco adesso almeno legalmente ci sono delle buone basi sì a me aveva impressionato che la British Library dopo l'attacco ha pubblicato un paper learning from attack in cui ci sono centinaia di pagine in cui spiegano cosa è successo la loro reazione cosa avrebbero fatto per il futuro insomma una trasparenza che da parte di un'azienda io veramente vedo difficile cioè uno perché ti espondi le tue multinabilità e due perché lo assumi piuttosto quello che ti ha attaccato piuttosto che che dire che sei attaccato grazie non so se Matteo Giovanni volevate spendere qualche parola a riguardo perché allora sulla British Library sulla British Library credo sia allora e questo lo dice anche il report credo che sia un problema di risolvere allora d'accordissimo ovviamente con con Giuseppe Cetto sul fatto che la sicurezza è un processo come anche la digital preservation io sono occupato spesso di digital preservation è un processo non esiste un software che si occupi di digital preservation d'accordissimo nel caso della British Library mancano proprio le risorse non tanto le risorse digitali le risorse digitali ci sono ma diciamo che è strano perché ovviamente è una delle biblioteche più ricche in Europa loro lo dicono esplicitamente determinate cose sono state sottofinanziate il ricorso l'esagerato ricorso ora le parole esatte non me lo ricordo ha l'outsourcing nel campo dei software quindi anche quindi la scarsa capacità di è chiaro quando diciamo un organismo così complesso come la British Library abbiamo visto prima i problemi di Wikidata lì ovviamente la stratificazione del tempo della British Library complica le migrazioni quindi determinati software non più aggiornati che possono aver creato ovviamente dei problemi quindi diciamo d'accordissimo credo che come diceva Lorenzo la sicurezza dovremmo occuparci anche noi bibliotecari di sicurezza prenderla seriamente in conto però insomma qualche qualche strada la conosciamo ecco cioè bisogna investire di più risorse umane e risorse anche ovviamente finanziarie ecco non abbandonare credere che appunto una volta acquistato il software e il software da solo funzioni e sia intrinsecamente sicuro ovviamente nessun software va per noi a scuola la sicurezza allora al di là del fatto che possano saltare dei servizi però chiaramente siamo nelle mani di google per il servizio principale e quindi è google che si preoccupa del servizio e penso ad esempio alla faccenda del registro io vivo e lavoro in Trentino abbiamo un registro scolastico dove sono contenuti molti dati ed è in mano alla provincia diretta è un caso ovviamente provincia autonoma ma nel mondo scolastico normale sono aziende private che hanno in mano i dati del registro nel nostro caso è la provincia e sì mi auguro che ci pensi disfunzione di servizio credo dovute anche a guai attraverso attacchi un po' strano ce ne sono state però non c'è mai stata una perdita di dati così importante se collego poi la nostra sicurezza alla faccenda della privacy dei miei studenti che è una cosa estremamente delicata perché noi portiamo in rete alla fine bambini a cominciare dalla seconda elementare inutile che ci giriamo intorno in realtà privatamente ci sono già prima di arrivare alla prima elementare le famiglie gli danno mano il telefono e tutto se ne va lì però noi diciamo che ce ne dobbiamo preoccupare dalla seconda elementare in avanti più o meno intanto abbiamo una rassicurazione da parte dei vari server ad esempio quelli di di lichidia dalle persone che deciscono lichidia di lichipedia ed altri che i dati non vengono fatti oggetto di nessun tipo di commercializzazione quindi questo è già un primo fatto e poi sempre restando sull'onda del processo molto faticosamente in questi anni sto cercando di passare da nome e cognome dei bambini per avere la mail a cavallo veloce pantera nera e praticamente un bambino che mi entra a scuola da quando entra la scuola in primo elementare fino alla terza media nel mondo scolastico nei server della scuola utilizzerà solo ed esclusivamente uno pseudolimo con tutta un'enorme difficoltà perché poi abbiamo forsi contro il cyberbullismo per la gestione dei propri dati che cominciano dalla terza elementare però ecco poi sappiate che ma credo che lo sapete meglio di me esiste TikTok e quello alla scuola sfugge completamente io posso lavorare e tutti i miei colleghi possono lavorare molto da un punto di vista educativo poi c'è un mondo in cui i ragazzini si scambiano qualsiasi cosa alla faccia con server in Cina quindi è difficile persino di avere convenzione di permesso ma ci sono delle sensibilizzazioni in questo tema cioè anche per quanto riguarda l'open data se vogliamo o quello proprio che coinvolge la proprietà dei dati e la loro trasparenza certo c'è allora al di là dell'aspetto che diceva prima il professore al centro della possibilità di intervenire una volta che si scopre una falla conosco bene tutta questa questa idea questa cosa che è il distrac poi con i ragazzini facciamo molto tempo a discutere il fatto che se tu intervieni su in tibia per dire i tuoi dati vengono dati e vengono messi in questa server lì e non vengono cambiati con nessuno i miei studenti sanno che loro giocano online a Mindtest e i dati rimangono dentro Mindtest perché è un software libro gestito totalmente da loro insegnanti che io due ringrazio Claudio Pacchiego e Marco Cassita che sono i due informatici che mi aiutano a gestire un po' la cosa questa cosa è importante se non fosse software libro non lo potrei fare o per meglio dire lo potrei fare solo con un investimento economico rilevante mentre qua con 300 euro all'anno me la cavo abbondantemente anche lì comunque sempre parlando il processo i bambini a Mindtest giocano solo con un pseudonimo e vengono istruiti lungamente sappiate che bisogna investire molto tempo al fatto che quando parlano in chat non divino i nomi propri quindi non vale chiamarsi il tuo nome in chat ti devi chiamare Pantera Nera Cavallo Giallo e Nonna Andrea Paolo Marco e non devi dare informazioni personali certo questa è una cosa importante e secondo me è importante che la facciamo a quell'età lì perché poi se no poi andiamo su Facebook che succederà a qualsiasi cosa ma approfitterei cioè so che c'erano i membri del gruppo di studio che avevano qualche domanda se vogliono avanzarla prego se no poi parlo io Lorenzo vai io in realtà avevo una domanda grosso modo a cui ha risposto Matteo cioè che era quella della gestione dei dati e io forse volevo se non ci sono altre persone vorrei fare più che una domanda era una riflessione che mi è venuta in mente guardando in particolare ascoltando in particolar modo Matteo ma che poi mi ha diciamo mi servita per ricollegare anche gli altri interventi che da un certo punto di vista l'adozione appunto di strumenti aperti mi sembra che oltre che risentire di ostacoli tipo amministrativo burocratico all'interno delle nostre amministrazioni richieda anche da parte di noi professionisti un salto come dire qualitativo che so se siamo tutti pronti a fare mi è venuto ci ho pensato quando ho visto l'intervento di Matteo perché diciamo l'uso di quegli strumenti lì mette proprio in gioco il tuo ruolo come educatore secondo me quindi con c'è un educatore che è un ruolo molto più attivo anche nella pratica di insegnamento e questo vale anche per noi bibliotecari probabilmente non è solo un ostacolo almeno quello che mi è venuto in mente non è solo un ostacolo diciamo amministrativo degli istituti in cui lavoriamo ma forse in un certo punto di vista anche noi siamo gli ostacoli a questo cambiamento perché non lo richiediamo e forse non abbiamo in certi momenti neanche le capacità per farlo o per usare certi strumenti posso dire una cosa sì c'era Giuseppe che ha alzato la mano avevo promesso che avrei rispettato l'ordine di alzata di mano no non è necessario chiedo scusa e chiedo scusa prego allora intanto sì è un problema tecnico di nostre competenze un po' ma se penso alla mia categoria quella degli insegnanti è un problema ma anche di semplicemente coraggio cioè guardiamo in faccia la realtà il mondo sta cambiando tra poco l'intelligenza artificiale ribalterà per la duecentesima volta tutto il nostro mondo il sapere non sappiamo esattamente dove stiamo andando dobbiamo avere il coraggio di prendere i bambini per mano e dire proviamo a fare delle cose anche se non siamo non sappiamo tutto tecnicamente aggiungo dentro nella Valle di Ledro incantata invito tutti a venire in vacanza perché la Valle di Ledro è un posto fantastico il Trentino è bellissimo il Garda è meraviglioso ma detto questo io le collaborazioni col museo delle palafitte della mia valle con la biblioteca della valle le ho aperte anche lì grazie a Alessandro Ribaga e adesso a Lucia Brunialti che sono i bibliotecari della biblioteca di Bezzecca 5.000 abitanti in tutta la valle però anche lì la scuola si apre la biblioteca la biblioteca la scuola al museo si cerca di mettere in gioco tutte queste cose e con queste risorse ed è lì il grosso vantaggio dell'open source e del software libero cioè con delle risorse che economicamente sono piccole con delle competenze che puoi trovare anche i studenti delle superiori con un po' di volontariato si mettono in piedi progetti molto belli e grandi e grandi cose sia per l'apprendimento che per la fruizione dei servizi bibliotecari e per l'accesso al museo stesso e una volta fatte i tentativi che non sto portando avanti da ieri ma più o meno da vent'anni sono sempre stati quelli di dire prendiamo queste iniziative non del tutto organizzate e trasformiamole in qualcosa a cui le istituzioni e l'amministrazione ci danno aiuto e devo dire che è sempre stato molto difficile faccio velocemente e spero di non rubare spazio a nessuno per un minuto un altro esempio la valle quest'anno è stata isolata un paio di volte per motivi di frane e crollo di una galleria insomma abbiamo avuto qualche problema a raggiungere la scuola abbiamo dovuto passare da 15 minuti a due ore e mezza di viaggio in macchina su telegram un amico Federico Sangati anni fa ha messo in piedi un piccolo bot che si chiama pick me up che permette l'organizzazione di passaggi in macchina nel momento in cui ti trovi anche in questa difficoltà è un bot che ho portato la conoscenza del sindaco della valle eccetera eccetera almeno 10 non mi ricordo più 12 anni fa ma nemmeno in quei casi lì nemmeno nel caso in cui ce n'era veramente bisogno sono riusciti e qui non so dire se per incompetenza paura o qualche lenne nemmeno in quel caso sono riusciti da un punto di vista amministrativo intervenire e dire cacchio lo stavano usando gli studenti superiori per raggiungere Riva del Garda cioè scendere dalla Val di Ledo e raggiungere Riva del Garda e non riuscivamo ad avere un intervento del comune che sarebbe stato banalmente mettere le palline che segnalavano dove era possibile caricare gli autostoppisti perché sostanzialmente è un metodo per organizzare un autostopp certificato sicuro ecco grazie Giuseppe prego sì c'era un aspetto che non mi era chiaro della domanda di Alessandra o della considerazione di Alessandra perché ci sono due 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 metà della della questione utilizzare un diverso approccio all'insegnamento con insomma diretto coinvolgimento creatività collaborazione eccetera eccetera in una maniera che che anche però protegge la privacy e anche evita di andare ad utilizzare degli strumenti su cui abbiamo molto meno controllo anche da un punto di vista legale e insomma continuano a rinforzare una certa abitudine purtroppo facciamo in questo modo anche da da pubblicità gratuita e anche formazione gratuita per un software proprietario quindi per roba che tra l'altro paghiamo anche pubblicamente quindi ci sono due due aspetti uno utilizzare degli strumenti diversi per l'insegnamento e questo è un problema che ovviamente richiede un investimento di tempo per acquisire delle competenze ma non sono delle competenze tecniche o particolarmente elevate cioè si tratta di scoprire qualche pulsante qualche menu qualche nuovo nome di applicazione perché il grosso problema invece dal mio punto di vista è che mentre il software proprietario ha un budget di marketing e quindi ha dei venditori e poi a un certo punto non ne ha avuto neanche più bisogno perché ha delle posizioni dominanti totalmente anticompetitive contro il libero mercato qui non vengo da una posizione diciamo politicamente economico politica precisa non è non è proprio è contro anche l'efficienza del più grande liberista che possiamo trovare quindi c'è un problema molto forte e il problema è che è comodo la comodità è il modo con cui si mantiene il controllo su tutta una serie di attività perché per cambiare soltanto non è più difficile non c'è bisogno di sapere di più bisogna sapere a che esiste l'alternativa dove trovarla e poi c'è un altro problema invece per la pubblica di amministrazione eccetera eccetera è che come non ci occupiamo noi docenti di metter su tecnologicamente la questione gestirla tecnicamente perché non è il ruolo del docente ci dovrebbe essere un supporto il supporto che come viene pagato per il software proprietario per i dispositivi di ogni tipo può essere pagato anche per il software libero con l'enorme differenza che non ci sarebbe un vendor lock-in non devo pagare il tizio che ha l'accordo di licenza e quindi deve pagare la tassa al detentore dei diritti del software proprietario ma pago un'azienda che quei soldi li usa veramente per pagare il lavoro degli esperti dei dipendenti dei tecnici che possono anche fare manutenzione e aggiustare il software e possono anche fare formazione quindi c'è la possibilità di un ecosistema di software libero c'è ma è difficile perché non c'è una grossa pubblicità quindi è più una questione di sapere che esiste andare a scopare l'azienda che supporta software libero dal punto di vista tecnologico e decidere di cambiare delle abitudini provare qualcosa di nuovo e vedere se è altrettanto utile sapendo tutto quanto quello che c'è dietro dal punto di vista delle libertà e dei diritti e dei costi nascosti del software proprietario quindi è per questo che io partecipo a questo tipo di interventi tra l'altro perché penso che sia il problema fondamentale io non sono pagato da nessuno sono pagato dall'università sto ancora facendo il mio mestiere di divulgatore da questo punto di vista ma questo credo sia il problema fondamentale quindi persone come voi che state partecipando a questo tipo di seminari quindi ringrazio sia per la partecipazione tantissimo per l'organizzazione del seminario perché penso che stiamo affrontando uno dei problemi principali perché il software proprietario ha pubblicità ha presenza sul mercato ha potere di lobbying ha dei rapporti preesistenti di lunga durata con gli amministratori ha delle consuetudini rassicura perché è noto ma bisogna addestrarsi a tutti quanti i vari software proprietari non vengono naturali non sono più facili da usare sono soltanto magari già noti e poi c'è un esercito di istruttori gratuiti che insegna a usare quel software quindi non penso sia un problema di difficoltà o di sforzo che devono fare gli educatori almeno non quel tipo di sforzo dovrebbe essere fatto ad un altro livello sì se posso prima di intervenire Raffaele no no era giusto un chiarimento non parlavo in effetti forse sono stata poco chiara non parlavo di competenze tecniche parlavo di capacità di andare oltre cioè c'è una resistenza proprio come dire attitudinale ecco all'uso di strumenti che magari non si conoscono cioè sono d'accordo con quello che hai detto era proprio questo quello che volevo esprimere che c'è anche da parte di noi professionisti una resistenza una mancanza di capacità di andare oltre a quello che già conosciamo non parlavo di competenze tecniche ecco giusto allora eravamo d'accordo però non è soltanto una semplice paura del nuovo c'è qualcosa di più perché lo strumento nuovo sfavillante la novità il più potente la versione del 40 di solito viene inseguita con passione c'è qualcuno che si lancia anche di propria iniziativa investe perché è convinto di ottenere qualcosa di meglio è su questo tipo di narrativa che vorrei andare a incidere perché qualcosa di meglio ma proprio di completamente diverso c'è non è tanto difficile se riusciamo a creare le condizioni a contorno che lo rendano possibile senza martiri senza sacrifici eccessivi ma come l'intelligenza artificiale che viene rincorsa senza avere le gambe e i piedi comunque prego Raffaele così cerchiamo di buonasera ringrazio i relatori allora io volevo citare nuovamente la British Library non per i guai che le sono successe ma per un altro esempio virtuoso a un certo punto decidono di migrare un loro software che usano era già software libero vogliono cambiarlo e dal 2002 dal 2018 al 2022 assumono con dei contratti di consulenza il maintainer del software stesso questo era un software in Python per gestire gli archivi di pagine web era un software in GPL3 nonostante all'interno della British Library avessero diciamo sia le risorse umane che le competenze per poter lavorare su quel software perché loro avevano bisogno di alcune modifiche di alcuna evoluzione di quel software decidono di assumere questo sviluppatore e gli hanno portato le loro richieste tutto quello che è stato integrato in questo software oggi può essere usato da tutti perché le loro richieste oggi hanno contribuito al software stesso e lo hanno arricchito e sono disponibili a tutti e la cosa in realtà ancora più importante oltre a questa è che hanno deciso poi di rendere pubblico l'intero processo di sviluppo quindi attraverso dei canali Slack e addirittura delle call video settimanali a cui potevano partecipare tutti tutta l'intera comunità che si occupa di di quell'attività del web archiving che citava anche Giovanni prima tutti potevano seguire in diretta diciamo questo processo di sviluppo potevano a loro volta contribuire con richieste particolari e via dicendo e secondo me è stato davvero un esempio virtuoso che ha permesso di migliorare un software che di fatto oggi è praticamente ha assunto è lo standard utilizzato da tutti non esistono alternative è uno strumento molto di nicchia c'è da dire però diciamo questo aspetto di coltivazione della comunità è stato è stata una cosa importantissima quindi io la domanda che faccio a voi è se conoscete esempi simili in Italia di istituzioni che abbiano contattato direttamente il maintainer di un software anziché rivolgersi ad aziende intermediarie che conoscevano quel software e comunque lo modificavano e lo riedattavano e poi brevemente mi collego anche al dibattito che è intercorso tra il professore Aceto e Alessandra cioè sull'aspetto comunitario senz'altro quella è la cosa su cui dobbiamo dobbiamo lavorare perché io sono convinto anche all'interno delle nostre stesse biblioteche esistono tante persone tecnicamente valide molti già sviluppano free software e non c'è conoscenza o cooperazione sull'argomento e spesso io su questo intravedo che ci sia una sorta di timore nell'esporsi all'esterno e cito questo esempio qui io poco più di un anno fa avevo aperto un forum a livello proprio volontario su un argomento specifico che è quello delle tecnologie IEF per fornire immagini digitalizzate è uno standard che viene utilizzato da biblioteche e archivi diciamo questo forum dopo sei mesi l'ho chiuso perché ero l'unico a scriverci e quindi mi sembrava un po' monotono continuarlo però la cosa triste che osservavo è che io ho ricevuto durante quel periodo in cui io scrivevo sul forum ricevevo in forma privata tantissime email e contatti di persone che venivano dalle biblioteche e dalle istituzioni che mi chiedevano consigli o mi chiedevano dettagli su quel software lì e io lì in qualche modo ho avvertito che c'è una sorta di non so se paura o cosa una sorta di timore nell'esporsi al pubblico mentre invece il free software è possibile grazie a un aspetto diciamo cooperativo e di apertura verso l'esterno prego Matteo due cose da dire allora chiaramente vengo da un altro mondo la faccenda mi veniva a mente anche sentendo il professore accetto e poi adesso l'intervento di adesso mi sfugge scusatemi il nome ma molto importante allora nel software libero anche il software proprietario ce l'ha per l'amore di Dio però nel software libero secondo me si vanno sempre formando delle community intorno all'utilizzo di un software soprattutto poi se pensiamo a community abbastanza grosse strutturate come quella di Wikipedia ma noi stessi questa lista lavagna libera che tra parentesi sono anni che io e Paolo siamo gli unici due che ci scrivono e sono 12 anni che riceviamo le mail private che ci dicono ah bene interessante anche a me mi interessava questa cosa perché va avanti così ma è così ma dall'altra parte io ho vissuto anche tantissime e qua sono ancora un po' incattivito con le istituzioni ho vissuto anche tantissime iniziative di questo tipo ad esempio alla nascita del registro per le scuole in cui ti dicono facciamo la community e te la chiudono dopo sei mesi quando era molto attiva perché non rientra non c'è il finanziamento qualche cretinata del genere passano dalla community alla politica dei ticket credo che tutti quanti conosciamo cos'è un ticket quando non va a un software che è una cosa che è devastante perché intanto non puoi proporre niente poi assume dei tempi di lavorazione comincia a ricevere solo risposte tecniche e dopo due minuti sei stufo chiama il tuo amico che gli capisce qualcosa e cerchi di venire fuori da solo ecco per esempio questa faccenda che le community non sono mai adeguatamente sostenute non c'è modo nell'amministrazione di fare queste cose abbiamo avuto nel mondo della scuola in Italia un solo esempio secondo me che è un po' passato ma in qualche maniera ha un po' funzionato che è stato forte aperto sul web 2.000 siti scolastici su 8.000 scuole Paolo Mauri ne fa parte da quando è nato se vuole intervenire ne fa più di me però lì grazie ad Alberto che era un responsabile del provveditorato di Milano se non sbaglio diciamo che si è creata una community che un pochettino era sostenuta dalle istituzioni non tantissimo perché poi anche lì alla fine la community è stata lasciata andare sono stati chiamati gli esperti Paolo e un'altra insegnante a Roma quando Piacentini col team digitale ha fatto il nuovo modello per i siti scolastici e giusto per capirci parliamo di 7.000 euro a scuola per 8.000 scuole fate due conti di quanti soldi c'erano sopra quel modello lì quando hanno deciso di fare questo lavoro e è stato almeno riconosciuto un minimo il ruolo della community tutt'altro mondo è il mondo francese dove gli esperti che mettono in piedi i piccoli e anche qui Paolo è più esperto di me ma che mettono in piedi questi server per le scuole le esperienze più grande sono Pramasoft e la digitale vengono chiamati direttamente dal ministero impiegati dal ministero e messi a lavorare su progetti che poi distribuiscono su tutta la nazione quindi anche noi abbiamo avuto esperienza abbiamo conosciuto questa cosa è pazzesco come in Italia questa cosa non avvenga purtroppo è vero che qui le cose non funzionano in quanto poi è un piccolo suggerimento una maniera di tentare di fare le cose che è un po' rompiscatole a tutti però ad esempio negli anni mi sono convinto che la mailing list e adesso per assurdo i gruppi whatsapp che non è software libero ma è quello che tutti guardano e tutti leggono e tutti usano sono il modo giusto per andare a rompere le scatole a tutti e cercare di interagire con tutti poi certo ci sarà sempre un piccolo gruppo ristretto che porterà avanti la carezza però questo è sappiate comunque che almeno nel mondo della scuola ogni volta che le istituzioni vengono e ci mettono dei servizi anche grossi registro riguardo più di cento scuole vengono sempre a raccontarci quella aggiungiamo dei gruppi informali vediamo come funziona quei gruppi informali poi la storia dura un mese e poi chiudono tutto un po' in alto adige con alcune esperienze tipo la FUS hanno tenuto in piedi per anni il sistema anche lì comunque limitandone la potenza la forza non accogliendo fino in fondo la community non riconoscendo fino in fondo la community come una cosa altra parte e poi è vero a certo ho parlato di lock-in le nostre scuole e credo anche le biblioteche in parte soffrono tantissimo del lock-in ne abbiamo di furboni che ci hanno venduto la qualsiasi cosa ed è veramente un guaio e alcune volte riescono a mettere in piedi un lock-in che è puramente tecnico perché magari ti danno veramente il software libero ma poi ho in mente un po' di esperienze nei siti poi ci mettono sopra talmente una modalità di lavoro talmente chiusa che è difficile venirne fuori anche se tu stai utilizzando il software libero mi taccio perché non voglio monopulire se gli altri relatori vogliono prendere parola nel caso in cui non lo vogliono fare Raffaele rispondo io su una mia opinione lo so che non sono io l'intervistato però secondo me è anche tanto il problema che specialmente nelle biblioteche chi sa programmare è un one man show si deve occupare del sito dei metadata dell'intelligenza artificiale dell'infrastruttura e tutto quindi magari semplicemente non corrispondono i momenti di vita in cui ci occupiamo delle stesse cose e invece gli ingegneri sono mirati e fanno anche per 40 anni quella roba specifica e questo fa tanto scusa nelle scuole nelle scuole noi abbiamo subito negli ultimi vent'anni un aumento delle necessità informatiche digitali mostruoso cioè siamo passati dalla scuola del gesso e del quaderno alla scuola in cui abbiamo le lavagne multimediali ma la struttura cioè le persone che all'interno della scuola sarebbero teoricamente dedicate a tenere in piedi tutti questi servizi sono rimaste in Trentino fortunatissimo abbiamo negli istituti comprensivi un tecnico di informatica che però spesso non è formato non è né un amministratore di rete e né tantomeno un programmatore quindi spesso è uno che ha messo insieme quattro competenze un po' da solo se non è il vecchio bigello che non sapevano più come impiegare negli istituti comprensivi italiani non c'è nemmeno questa figura quindi tu hai 1500 studenti che perché c'è gente come Paolo o altri insegnanti che prendono il loro tempo libero lo buttano via a fare queste cose non hai nulla compri il ferro le macchine ma non c'è nessuna competenza lì dentro i computer muoiono dopo due secondi e anche qua torniamo a quanto è bello Linux perché magari le prestazioni non sono stellarie all'inizio però ce l'hai tranquillo per dieci anni non si ferma mai quella macchina con Windows la morte dei computer è quotidiana scusa grazie prego Giovanni a proposito di one man show prego Giovanni adesso appunto i one man show sono altri ma in effetti qual è il problema il problema per esempio prima parlavamo di IIPC o IIPC all'italiana l'International Internet Preservation Consortium la nazionale è stata la nazionale di Firenze è stata tra i fondatori dell'International Internet Preservation Consortium a un certo punto mancavano totalmente le risorse sempre economiche per partecipare non solo ma anche se ci fossero state queste risorse mancava il tempo cioè di seguire queste cose quindi diciamo i servizi informatici della biblioteca nazionale centrale di Firenze non avevano e non hanno ancora adesso personale in grado di seguire cioè di leggere le mail di partecipare agli incontri eccetera e insomma è chiaro che se si partecipa a questo consorzio bisognerebbe in qualche modo appunto entrare nella comunità che sviluppa eccetera ma quindi sono d'accordo con chi lo diceva prima ottimo ottima scelta quella del vostro gruppo di dedicare a questo tema un seminario speriamo ce ne siano altri e vediamo come come lavorare per per appunto evitare che Raffaele da solo apra un forum e poi lo chiuda per disperazione sostanzialmente perché nessuno interviene e la domanda c'è di queste cose questo è il problema insomma poi non si riescono a trovare le risposte pragmaticamente vediamo ecco se si possono trovare delle risposte ovviamente come bibliotecari non ci dobbiamo arrendere come non avete fatto voi del gruppo avete scelto di organizzare questo questo seminario e prima o poi ci toccare al seminario sulle infrastrutture visto che stiamo dando per scontate tutto questo gioco allora siamo arrivati al termine del tempo se qualcuno non so Alessandra riprendi tu il controllo come facciamo ma ora direi che possiamo chiudere perché comunque non ci sono altre domande poi qualcuno ha iniziato ovviamente a come dire a salutarci mi sa anche l'ora come dire pre-cena io ringrazio ancora tutti della partecipazione i relatori i partecipanti tutti i membri del gruppo che appunto abbiamo organizzato questo evento e speriamo di riuscire a dare un seguito questa giornata questo pomeriggio che abbiamo passato così assieme quindi vi ringrazio io adesso interrompo la registrazione grazie a tutti